ministero profetico apostolico della bibbia del missionario evald frank il missionario evald frank da oltre 40 anni ha predicato in più di 130 nazioni egli è conosciuto per aver pubblicato differenti libri trattati programmi radio e televisivi il suo genuino insegnamento apostolico è apprezzato dal popolo di dio intorno al mondo cari fratelli e sorelle in cristo cari amici signore e signori e il fratello frank che vi parla dal centro missionario internazionale di krefeld in germania sono riconoscenti al dio onnipotente per le numerose opportunità di condividere la preziosa parola con gli abitanti della terra oggi condividerò la parola di dio con voi il nostro tema rimane lo stesso il ritorno di gesù cristo l'adempimento delle profezie bibliche nel nostro tempo la chiamata fuori la separazione e la preparazione di coloro che desiderano essere pronti quando lo sposo ritornerà poi comprendiamo che soltanto coloro che fanno parte della chiesa sposa ascolteranno ciò che lo sposo veramente ha da dire e questo ci porta direttamente in apocalisse capitoli 2 e 3 chi ha orecchie ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese e la promessa è data sempre ai vincitori cari nel signore noi abbiamo bisogno di conoscere dio personalmente dobbiamo avere la nostra personale relazione con lui noi tutti dobbiamo avere la nostra conversione la nuova nascita la guida dello spirito santo dobbiamo essere portati nell'ubbidienza alla parola di dio e nella volontà di dio il tempo è giunto di rendersi conto di ciò che dio ha promesso per questo giorno e ciò che egli fa secondo la sua parola nel nostro tempo proprio di recente ho ascoltato un sermone predicato da william branham la parola di dio chiama a una totale separazione dall'incredulità l'incredulità è terribile è un insulto a dio perché dio è l'unico che è verace la cui parola rimane per sempre e perciò crediamo ogni parola di dio asteniamoci da ogni interpretazione che viene dalla conoscenza umana e crediamo la parola di dio ispirata l'enfasi è stata messa sulla chiamata di abramo la separazione dalla sua famiglia da ogni cosa anche dal suo paese per trasferirsi nella terra promessa genesi capitolo 13 versetti 14 e 15 e l'eterno disse ad abramo dopo che lotte si fu separato da lui alza ora i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei a nord a sud a est e a ovest tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre in primo luogo la chiamata poi la separazione e poi guardare nella terra promessa est e ovest nord e sud tutto il paese con tutto ciò che vi è in esso cari tutte le promesse di Dio sono sì ed amen ma dobbiamo essere certi che abbiamo ricevuto quella chiamata che la parola di Dio ci ha parlato direttamente voi sapete che ogni sermone dal primo che è stato predicato il giorno di Pentecoste è una chiamata divina per coloro che ascoltano la parola di Dio per venire al Signore Gesù Cristo per essere salvati per nascere di nuovo per essere collocati come figli e figlie di Dio nel regno di Dio poi c'è un tempo di consacrazione un tempo di separazione leggo due passi della scrittura per questo scopo Levitico capitolo 21 versetto 21 nessun uomo della stirpe del sacerdote Araonne che abbia qualche difetto si accosterà per offrire i sacrifici fatti col fuoco all'eterno ha un difetto non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio se andate in Efesini capitolo 5 lì potete leggere nel versetto 27 che il nostro Signore Salvatore avrà una chiesa sposa senza macchia né ruga senza alcun difetto e noi che condividiamo il pane della vita con voi dovremmo essere senza difetto e possiamo essere senza difetto soltanto se siamo sotto il sangue che Dio ci vede attraverso il sangue del nuovo patto attraverso il sangue dell'agnello che è stato sparso per noi sulla croce del Calvario e Gesù e Gesù Cristo come sommo sacerdote è entrato con il proprio sangue nel santuario celeste e il sangue parla per noi oggi cari non lasciate che il nemico vi oppressi credete con tutto il vostro cuore che Dio era in Cristo riconciliando l'intero mondo incluso anche voi con sé non imputandovi nulla ma ogni cosa è stata messa sull'agnello di Dio l'agnello di Dio era senza difetto e perciò l'agnello di Dio poteva essere il sacrificio senza difetto per tutti coloro che sono stati acquistati tramite il sangue affinché anche loro siano senza difetto e poi partecipiamo al pane della vita e Gesù Cristo il nostro Signore ha detto l'uomo non vivrà di pane solamente ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio il passo della scrittura successivo è in numeri capitolo 6 specialmente i versetti 1 e 2 l'Eterno parlo ancora a Mosè dicendo parla ai figli di Israele e di loro quando un uomo o una donna farà un voto speciale il voto di nazireato per consacrarsi all'Eterno un voto di separazione qualcuno che doveva diventare un nazireo qualcuno dedicato e consacrato al Signore che non va in ogni direzione in cui soffia il vento ma essendo separato dal mondo dall'incredulità dalla disubbidienza consacrato al Signore cari questo non può essere fatto con le vostre forze né con le mie forze ma tramite la grazia di Dio e noi mettiamo la nostra volontà nella volontà di Dio e non preghiamo soltanto Padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome la tua volontà sia fatta il tuo regno venga ma che siamo partecipi di quel regno di Dio che partecipiamo in ciò che Dio fa attualmente senza camminare nelle tenebre e nella disubbidienza ma nella luce essendo ubbidienti alla parola di Dio cari devo dire questo in tutto il mondo che il ritorno di Gesù Cristo come promesso in Giovanni capitolo 14 è molto vicino i segni del tempo della fine non hanno bisogno di essere interpretati sono visti chiaramente nel loro adempimento cari noi comprendiamo che le profezie della Bibbia non possono e non devono essere interpretate ma devono essere osservate mentre giungono a compimento tuttavia soltanto se la parola di Dio ci viene rivelata per mezzo del medesimo Spirito Santo che era sopra i profeti e sugli apostoli la parola risplende come una luce e poi vediamo in quale via camminiamo qui abbiamo letto parla ai figli di Israele e di loro e poi viene la promessa il tempo di separazione il voto di nazireato essendo separati dal mondo Israele fu separato da tutte le nazioni Abramo fu separato dal suo parentato da ogni cosa che egli conosceva e fu inviato per mezzo della promessa nella terra che il Dio del cielo aveva dato a lui e alla sua progenie per sempre così cari la stessa cosa vale per noi se noi crediamo come ha creduto Abramo dopo che il Signore lo aveva incontrato dopo che il Signore gli aveva dato la promessa voi non potete credere a meno che il Signore vi abbia parlato personalmente che la parola di Dio è indirizzata a voi e poi diventa una rivelazione divina per voi personalmente nel Nuovo Testamento noi comprendiamo che coloro che il Signore ha chiamato sono stati separati dalla religione di quel giorno e in ogni risveglio c'è stata una separazione una separazione una separazione nel tempo della riforma c'è stata una separazione dalla chiesa romana dalla chiesa greca ortodossa una separazione dalla religione e la parola che fu predicata in primo luogo la giustificazione fu creduta e sperimentata poi sotto John Wesley dopo Martin Lutero un altro risveglio ancora una chiamata fuori una separazione dall'incredulità dalla disubbidienza nel risveglio successivo un po' più vicini all'originale parola di Dio agli insegnamenti e alle pratiche apostoliche ed ancora un tempo di chiamata fuori un tempo di separazione un tempo di consacrazione era giunto e specialmente precisamente cento anni fa quando l'effusione dello Spirito Santo ha avuto luogo in tutto il mondo ancora una separazione e una consacrazione delle persone hanno consacrato la loro vita al Signore e sono vissuti in obbedienza alla parola per come era stata rivelata loro poi devo dire questo dopo la seconda guerra mondiale è stato chiamato William Branham ed egli era un uomo mandato da Dio io l'ho conosciuto personalmente per dieci anni l'unico profeta e uomo di Dio che io abbia mai visto con i miei occhi io ho visto i giorni della Bibbia ho visto Gesù Cristo lo stesso ieri oggi è in eterno e la differenza fra il fratello Branham e tutti i numerosi le centinaia di evangelisti che poi in qualche modo e in un certo tempo sono entrati in scena era questa quando William Branham pregava Dio confermava la parola direttamente alla presenza di migliaia di persone io ho guardato in queste riunioni le cose che accadevano i ciechi recuperavano la vista sulla piattaforma i sordi potevano dire sulla piattaforma i miracoli accadevano davanti agli occhi di migliaia di persone non semplicemente la benedizione a una persona dicendo il Signore lo farà ma accadeva proprio là sul posto come avveniva nel ministero di Gesù Cristo il nostro Signore quando egli diceva al cieco di vedere questi vedeva quando diceva ai lebrosi siate mondati essi venivano mondati quando egli parlò alla tempesta la tempesta si è calmata cari io l'ho visto con i miei occhi e poi sono venuto a sapere che quest'uomo aveva un incarico speciale da parte del Signore egli era qualcuno promesso nell'Antico Testamento che doveva venire come Elia nei suoi giorni prima che venga il grande terribile giorno del Signore e cari quando sono venuto a conoscenza della parola promessa per questo giorno ho saputo che questo è il periodo di tempo che precede il ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore che è un messaggio della parola di Dio con tutte le promesse contenute in questo libro con tutti gli insegnamenti apostolici con tutte le pratiche apostoliche che tutto deve essere restaurato nella condizione in cui le cose erano al principio cari adesso noi viviamo alla fine del tempo della fine e voglio che sappiate cosa è accaduto nei giorni degli apostoli atti capitolo 13 ci dice che nella chiesa di Antiochia c'erano dei profeti e degli insegnanti nel versetto 2 leggiamo ora mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati in primo luogo una separazione di quegli uomini di Dio che dovevano predicare e insegnare affinché anche altri potessero essere separati dalla religione dalle tradizioni dall'incredulità e venire al Signore voglio leggere riguardo a quest'uomo che fu separato per il Signore predicava e alla fine il risultato della predicazione fu che coloro che avevano creduto furono pure separati da coloro che non credevano atti capitolo 19 versetto 9 ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità parlando male della via in presenza della folla egli ritiratosi da loro separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno gli apostoli predicavano e poi venne il momento in cui alcuni credevano e altri no alcuni accettavano e altri no così loro non potevano continuare a discutere e a discutere giunse il momento in cui la linea di separazione fu tracciata la luce fu separata dalle tenebre l'incredulità fu separata dalla fede la vita fu separata dalla morte e coloro che avevano creduto furono separati dagli increduli dai disubbedienti e consacrarono la loro vita al Signore cari noi tutti abbiamo differenti contesti noi tutti siamo nati in una chiesa o in una religione ma adesso l'ultima chiamata risuona ecco lo sposo viene uscitegli incontro preparatevi preparatevi perché il grido risuona il grido di mezzanotte echeggia e coloro che ascoltano la chiamata di risveglio proprio ora si preparano per l'imminente venuta di Gesù Cristo il nostro Signore cari come Giovanni Battista fu inviato per precedere la prima venuta di Cristo il vero messaggio di Dio il messaggio di restaurazione il messaggio di separazione il messaggio di consacrazione adesso viene condiviso con tutto il popolo di Dio su tutta la terra che questo sia il vostro giorno il giorno che il Signore ha fatto per voi separatevi da ogni incredulità e prendete la parola di Dio nel vostro cuore credete come dice la scrittura e Dio si rivelerà a voi io lo so lo so perché la parola di Dio è verace con tutte le promesse che la grazia di Dio sia con voi nel nome santo di Gesù Amen grazie grazie grazie